Ciao a tutti ragazzi, sono Gabri Costa. In questo videogioco Sly Raccoon, visto che siamo sempre nel terzo episodio e siamo sempre ad Haiti, faremo questo spaventoso livello, la discesa del pericolo, e dobbiamo capire perché. Io non ho paura a scendere, tu lo sai che la discesa non mi fa paura? Voglio provarci. Ehi, guardate che schifo, ragazzi. Ragazzi, avete sentito? Bentley è troppo spaventato. Ma che schifo. Non avevo mai visto una cascata verde piena di ossa e resti umani. Che schifezza è mai questa? Facciamo attenzione alle guardie voodoo. Oh, attenzione ragazzi, quella è una tartaruga scheletrica che lancia le teste scheletriche infuocate. L'abbiamo fatta fuori. Non è mica la tartaruga di Super Mario che lancia il boomerang. Io voglio andarmene via da questo posto, ragazzi. Non mi piace per niente. Voi lo sapete che Haiti non fa per me? Togliti di mezzo, raggniaccio. Facciamo molta attenzione a quelle piattaforme. Quelle sono superfici fragili. Quando mettete un piede, iniziano a cadere. Queste guardie voodoo devono sparire. Ti ho beccato sulla iPhone. Ma certo lo sapevo che eri qui. L'ho vista nelle stelle in cielo. E anche nelle mie amate fori mie di te. Sono nella tua testa, bracione. Conosco bene. Avete sentito, ragazzi? È la voce di Miss Ruby. Ci ha beccati. Miss Ruby vuole che io divento il suo servo zombie. Ma neanche per idea. Io non voglio darmela a gambe. Non voglio ritirarmi indietro. Devo proseguire e devo andare avanti. Perché non cerchiamo le chiavi? A me non piace sta schifosissima roba verde. E lo sapete bene. Io cosa sto parlando. Se distruggiamo le candele viola, disattiviamo il campo magnetico. E apriamo il ponte. Stiamo molto attenti e facciamo attenzione alle torce. Dovete saltare quando la fiamma si spegne. Non mi è piaciuta per niente la voce di Miss Ruby. Perché ci ha beccati? Io non lo so. Siete pronti, ragazzi, a fare la discesa? Facciamola subito e immediatamente. Si parte! Geronimo! Tutta questa discesa l'abbiamo fatta. E qualcosa mi dice che abbiamo trovato la chiave. Bene, è il momento di salutarvi. Se il video vi è piaciuto, condividetelo. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Arrivederci. Un bacione e un ciao da Gabriosta. Grazie. Grazie.